È stata inaugurata Fossato di Vico Era Nostra, mostra d'arte contemporanea a cura di Andrea Baffoni che si snoda per il centro storico nella chiesa di San Cristoforo, le carceri, la piaggiola e il lavatoio. Il Borgo dell'Appennino vuole riallacciarsi alla manifestazione Artisti a Fossato di Vico che fin dagli anni 90 ha contaminato gli spazi medievali della città con opere d'arte contemporanea. Era Nostra rappresenta un percorso fatto da 21 artisti differenti con installazioni, sculture e dipinti con le trasformazioni della storia che si riflettono nelle metamorfosi formali delle opere. Fossato di Vico ha un'importante tradizione in questo caso perché fin dagli anni 90 si teneva la manifestazione Artisti a Fossato di Vico e in questo caso Era Nostra riprende questa tradizione. Quindi Artisti a Fossato di Vico torna nel comune Umbro e cerca di riportare la bellezza dell'arte contemporanea in relazione con la storia, con il luogo. La mostra Era Nostra si sviluppa in quattro spazi, le carceri, San Cristoforo, i lavatoi e la piaggiola. Abbiamo cercato di coinvolgere gli spazi in base ai lavori degli artisti, quindi fra pittura, installazioni, scultura e in certi casi alcune provocazioni che sono state ideate appositamente per la mostra. È una mostra immersiva in cui il visitatore è portato a entrare a contatto con le opere passandoci letteralmente attraverso in alcuni casi e quindi abbiamo cercato di restituire al visitatore non soltanto una mostra ma raccontano del tempo, raccontano della trasformazione, della storia passata e della contemporaneità e abbiamo cercato di realizzare una mostra in cui gli spettatori potessero entrare dentro in dialogo con l'opera, addirittura in certi casi attraversandola. Quindi non è semplicemente un'esposizione ma una vera e propria esperienza artistica in cui il visitatore potrà immergersi e trovare il rapporto tra se stesso, la bellezza e la storia che ci appartiene. La mostra sarà visitabile fino al 31 luglio, il sabato e la domenica dalle ore 17 alle ore 19.30 dal 6 al 28 agosto, tutti i giorni dalle ore 17 alle 19.30 il biglietto include la visita dell'antiquarium comunale.